Gesù benedici questo abitato proteggi questo abitato Gesù, benedici questo abitato Gesù, proteggilo da ogni male, proteggi le nostre famiglie Gesù, proteggi le nostre famiglie da ogni male, da ogni pericolo. San Biagio d'Ammaturgo prega per noi, ponte a Balle, via Sannita. San Biagio d'Ammaturgo proteggi questo abitato e benedici le nostre famiglie, liberale da ogni pericolo dell'anima, del corpo e dello spirito. Ave o Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo Seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo Seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. San Biagio d'Ammaturgo prega per noi, 3 febbraio 316, 3 febbraio 2016, diciassettesimo centenario del martirio. San Biagio, vescovo e martire di Sebaste, patrono di Forli del Sanio. San Biagio, non sono più eventualmente, comp 받고 il tuo figli di sviluppo di or dangerousità e Belgian. Ave Maria piena di grazia Il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne Benedetto il frutto Del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Amen San Biagio benedici le nostre famiglie Libera le nostre famiglie Da ogni infermità Dell'anima, del corpo E dello spirito No ma non l'ha pronta San Biagio Vescovo e Martire In questo diciassettesimo centenario Del tuo martirio Prega per noi Vescovo e Martire